Rimini 2026, una città e una data, insieme fanno una sfida, quella di un progetto che si chiama Capitale Italiana della Cultura. Rimini sta costruendo il suo percorso di candidatura e nei prossimi mesi costruirà anche il suo programma. Un programma che sarà anche un'idea, un impegno, un auspicio di quello che sarà la città nel suo futuro. Il futuro del suo patrimonio, il patrimonio di una città con duemila anni di storia alle spalle. Il futuro di una vocazione, la vocazione di una città con una produzione culturale, teatrale, musicale, sempre all'avanguardia, sempre in anticipo sui tempi. Il futuro di una città che si pensa green e blu. Tre, dunque, gli ambiti intorno a cui costruire questo programma, heritage, promozione culturale, innovazione scientifica. Di ciascuno di questi ambiti cerchiamo un curatore, un direttore artistico che possa costruire un pezzettino di questo programma insieme a noi e insieme alle tante intelligenze, alle tante competenze, alle tante esperienze diffuse nel territorio. Se hai voglia di sperimentare, se hai voglia di metterti in gioco, hai tempo fino al 2 di aprire. Leggi il bando, rispondi alla colla e noi qui ti aspettiamo.